Bella raga, qua è Savix che mi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi vi faccio vedere il metodo raga per eccellenza come quello della Union per rifare il colpo delle nuove missioni raga che sono uscite la settimana scorsa Quindi semplicemente dovrete aggiungere il link che trovate qua in descrizione sia per Play che per Xbox raga e una volta aggiunto da gioco spento lo troverete sui miei elenchi partite preferite A questo punto cosa dobbiamo fare? Guardate bene, noi dovremmo riuscire ad avviare questa attività e nel frattempo dovremmo partecipare su Anawak Allora per chi gioca da Xbox raga è semplice bisogna usare Anawak Joker Invece per chi gioca da Play può usare Anawak quello che vuole Perché su Xbox Joker essendo in antisportivo ci daranno i tre messaggi Invece su Pelli li dà sempre Per chi invece gioca da Xbox One raga dovrà farsi aiutare da un amico Quindi partecipare da un amico che sta in una sessione in mira differente o anche no E prima che entra nell'attività lui la dovrà acquittare In questa maniera darà l'errore e funzionerà ugualmente Quindi guardate bene, ora partecipo su Anawak Spammo ragazzi A o X a seconda di dove gioco In modo tale che quando si chiude il menu andrò subito ad avviare anche l'attività Accettando il messaggio d'allerta A questo punto continuiamo a spammare finché non accettiamo tutti i messaggi raga Questo è il video originale quindi non è velocizzato E a questo punto una volta che spawneremo dovremo essere veloci ad aprire la ruota delle armi raga E spararci un razzo in mezzo alle nostre gambe In questa maniera salteremo per aria e a questo punto raga si avvierà la lobby del colpo Quindi non vi resta nient'altro che giocarvelo con i vostri amici o meno raga Come preferite voi 500.000 a botta e non fa male Non si sa mai che poi mettono anche gli RP doppi e poi ne varrà ancora di più la pena Ogni 10 minuti raga ve lo rifatte Ogni 10 minuti vi trovate 500.000 E fate veramente un sacco di soldi Perché il colpo non è difficile Ed è veramente scorrevole Io spero che questo video vi è piaciuto Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix Supportate il canale raga E ci aggiorniamo con il prossimo video Dove andrò a spiegarvi il perché hanno bannato determinati account Bella raga Alla prossima Sbada Ciao